Al mondo siamo tutti paesani, mi diceva il mio grande amico Mario Rigonisterna, camminando nei boschi dell'altopiano di Asiago. Se vai a rimescolare nei secoli, trovi i basi comuni, la casa da cui siamo partiti. Se tocchi le tue radici, di essere umano, aggiungo io, fai vibrare tutta la pianta. Ecco perché i muri sono destinati a crollare. Oggi pensiamo soprattutto a quelli fra gli stati, ma ci sono anche i muri di casa nostra, ai quali prestiamo meno attenzione. Però sono altrettanto radicati. Potremmo chiamarli muri condominali, che magari proteggono soltanto un giardinetto, un'aiola, un cortile. Muri che fanno tristezza, come quelli più famosi. Eppure la storia ci dovrebbe avere insegnato che nel momento in cui alzi gli steccati, sei destinato a perdere la prosperità che vorresti conservare. Ce lo ripete da sempre il salmista. Gli uomini nel benessere non comprendono. Sono come gli animali che periscono.